Oggi vi mostro non tanto perché cerco pareri favorivoli, quanto per le questioni che sono state riconosciute da Luigi Grandi, che sono quelle che sono state inquadrate da me in quel riquadro rosso. L'argomento è un video al quale io ho risposto e ho risposto a chi mi diceva se hai amor proprio, Amodeo, togli di mezzo questo video imbarazzante. In relazione alla mia risposta a questo che non capiva, la necessità del mio video, e imbarazzato al punto da chiedermi cortesemente di rimuoverlo se io avevo amor proprio, e è intervenuto Luigi Grandi invece ringraziandomi e chiamandomi maestro a che io gli ho risposto e di che cosa? Ciao Luigi! Egli ha precisato della tua sempre cortese pazienza e devozione al lavoro o missione. Ciao Romano, a presto! Ma poi ha aggiunto questo che io ho inquadrato e vi presento un po' più grande Prima o poi, tutti, compreso il mondo scientifico, capiranno che coscientizzare la presenza è la chiave di tutto per potersi porre nell'ottica di capire tutto. Fino ad allora i tuoi sforzi non saranno mai abbastanza. Per questo, grazie, ecco, ha capito la questione davvero essenziale. rendere cosciente il mondo scientifico e tutti che la presenza deve essere qualcosa che non deve essere considerata quell'attimo fuggente che poi non ci consente di misurare contenuto in questa presenza proprio nulla. Deve essere durevole, deve essere costruita su una velocità unitaria che sia uno a uno, si presenti come un vettore che abbia una velocità, un verso e una ben precisa quantità e che ce ne siano tanti da riempire pienamente un mondo rappresentato attraverso il sistema dei tre assi cartesiani che è veramente una pienezza quando noi andiamo a immaginare tutti i vettori che siano lunghi 1 e che nelle quattro dimensioni del piano frontale siano, poiché il piano frontale è il piano x, y, siano più 1x meno 1x secondo l'asse x, più 1y meno 1y secondo l'asse y, vettori tutti che hanno origine dall'intersezione, ossia dal centro del piano, e collocati due osservatori, uno io che vedo il prospetto, l'altro sullo stesso asse z perpendicolare a questo piano, un osservatore in lontananza, io sul punto più 1z e egli sul punto meno 1z, con il piano che appartiene alla origine O. Allora, capite bene che la presenza totale di tutto questo è data dai quattro vettori del prospetto, dagli altri quattro del prospetto posteriore, quello che non è visto da me, ma è visto da chi è in meno 1z. Io, collocato davanti a z nel punto più 1z, vedrò questi quattro. Di conseguenza, la nostra visione, che è relativa a due punti opposti di vista, ha cinque vettori che portano i dati a me e cinque vettori che portano i dati a lui. e la presenza di tutto questo sistema unitario è data inequivocabilmente da dieci vettori presenti. Se sono tutti lunghi 1 da 0 a più 1 o a meno 1, nei tre assi che poi sono scissi nei sei versi, ecco, se tutto questo esiste insieme, non si fa fatica a riconoscere che i dati dello spazio oggettivo riguardano in sostanza le otto dimensioni. quattro reali che io vedo e quattro da immaginare che sono quelle di dietro unite a due movimenti, uno in avanti e l'altro all'indietro. Movimenti nel tempo. Mentre invece nel piano esistono queste quattro dimensioni. Ecco, arrivare a conoscere che la presenza è data da questo dieci ed è una presenza che riguarda il volume, fa sì che tutte le unità che sono state scelte come un decimo di dieci sono un decimo di una presenza che è divisa in due valori unitari. Uno che dipende come decimo dal dieci, mentre l'altro è dato da dieci quantità che sono decime. Tutti e due sono espressi da dieci decimi. Sia il sistema unitario che contiene dieci in unità decime, dunque dieci decimi, sia il tempo invece unitario nel valore piccolo che è un decimo, che è un decimo di dieci, il che si legge ugualmente dieci decimi. Come vedete, i dieci decimi sono due. Sono uno nel ciclo massimo e l'altro nel ciclo minimo. E quando noi nel ciclo minimo mettiamo tutte le nostre unità come lo sono nel ciclo della decina perché il numero uno non è unitario per conto suo. È unitario all'interno esattamente di un ciclo dieci. Se non avesse un ciclo di riferimento, il numero uno, non avrebbe definita esattamente la sua quantità. Provate a immaginare che il ciclo uno sia esistente, per esempio, in un ciclo di dozzine. Allora il suo valore in relazione al suo intero non sarebbe più un decimo, sarebbe un dodicesimo. Per avere una sua dimensione precisa l'unità deve essere riferita proprio all'unità letta in senso esattamente inverso e ce ne devono essere esattamente dieci. Se ce ne fossero dodici già il numero è diverso, non rappresenta più l'unità perché dodici non è un valore espresso con una cifra sola perché l'altra è zero. bisogna arrivare a capire proprio che questi due osservatori che siamo, per esempio, io collocato in più uno z e l'altro collocato in fondo a meno uno z se abbiamo io davanti un piano trasparente questa volta in cui io disegno sul fronte di questo piano un bello 0-1 che è uno perché è uno definito nei confronti di una sua decina che manca perché è l'unità decima senza che ci sia la quantità della decina è 0-1 chi si ritrova dall'altra parte rispetto a me e vedesse ciò che io ho scritto a modo suo egli lo leggerebbe 10 chi avrebbe ragione tra noi due visto che io e lui stiamo vedendo la stessa cosa ma io la giudico 0-1 e egli la giudica 1-0 laddove 0-1 significa 1 e 1-0 significa 10 chi la verità a questo punto è data dalla possibilità che siano vere tutte e due le cose e allora 10 più 0-1 diventa 11 e diventa un valore che è letto in modo uguale anche quando è rovesciato e vedete bene che tutto questo coinvolge una verità perché se nel piano frontale avessimo un orologio il cui tempo di avanzamento sia fatto vedere attraverso una lancetta che vista da me ruota in senso orario l'osservatore collocato dall'altra parte che la veda in questo piano trasparente giudicherebbe che quel movimento non è orario ma anti-orario il movimento è quello che è in sé non può essere condizionato a due visioni contrapposte tra di loro in base a due giudizi che sono contrapposti perché io direi che la verità è il moto orario lui mi direbbe che no è il moto anti-orario ma com'è questo movimento sta ruota si muove in modo orario o anti-orario chi di noi due ha ragione se siamo nella stessa condizione io e lui di vedere questa cosa qui ecco vedete la presenza deve essere condizionata a una visione bilaterale che debba essere raccordata poi lo è proprio quando noi fissiamo un sistema di assi perpendicolari tra di loro perché due assi perpendicolari tra di loro questo hanno di significativo che se noi seguiamo la dinamica per esempio della mia osservazione e traduciamo il mio asse z come un asse che sia perfettamente verticale mentre il piano frontale è perfettamente orizzontale quando io lascio cadere un oggetto elastico che è attratto e cade in basso solo se incontra un piano perfettamente perpendicolare determina in questa palla un rimbalzo che percorre esattamente il verso opposto è la stessa cosa dei due osservatori opposti tra di loro sono veramente opposti tra di loro quando sono perpendicolari al piano perché i due versi vai e vieni devono avere la stessa direzione e non due direzioni diverse altrimenti non appartengono allo stesso asse cartesiano in tutte e tre gli assi ecco l'osservazione che io sto facendo capire in questo modo condizionata ai due osservatori che poi possono scegliere qualunque asse non è detto che debba essere per forza l'asse z può essere l'asse x che incontra il piano yz o può essere l'asse y che incontra il piano che è formato dagli altri due in qualunque asse si determini una visione per versi contrapposti noi siamo all'interno di uno spazio rigorosamente segnato dagli assi cartesiani che sono perpendicolari tra di loro e quando noi andiamo a immaginare l'esistenza di questo sistema in cui sei assi quelli dello spazio soltanto abbiano verso centripeto ossia verso il centro e inducano ammassamento e gli altri tre uguali come modulo ma diverso opposto che inducono espansione i due sistemi contrapposti in ammassamento e in espansione combinano la presenza 6 in ammassamento con quella 6 in espansione nel prodotto 6x6 36 poiché questo 36 riguarda proprio questi dieci vettori presenti secondo i due osservatori ecco che 36 espresso nella presenza 10 diventa 360 ed è esattamente l'angolo giro quando quest'angolo giro lo dividiamo in otto parti esatte ne risulta quell'angolo di 45 gradi in cui se noi facciamo la tangente di 45 gradi otteniamo una unità che esiste come tangente e allora tutto questo ci porterà a vedere tangente un elettrone proprio come una particella unitaria e tangente quando noi la osserviamo con questo angolo di 45 gradi noi vediamo tutta la realtà usando i valori di seno coseno perché a seconda degli angoli noi poi abbiamo dei valori rettilinei di di valori che esistono come il seno il coseno e tutte queste funzioni qui e vediamo bene che quando andiamo a fare il calcolo di tutta la variazione che esiste in 360 gradi scopriamo che la variazione regola solo 90 gradi ossia un quarto dei 360 e dunque se uno solo segna la variazione e gli altri tre hanno gli stessi valori ma diversi solo per questione di segni diversi ecco che uno è il tempo e tre è lo spostamento di questa presenza di 45 gradi di 90 gradi e raggiungiamo l'angolo giro proprio con quattro quarti di tempo uno di tempo e tre di spazio e ci accorgiamo proprio della verità di tutte le relazioni che ci sono fornite da tutte quante le nostre scienze ma Luigi Grandi ha posto proprio l'attenzione sulla centralità di questo problema che riguarda la presenza come dice lui giustamente la presenza è la chiave di tutto per capire perché è quella presenza tanto completa in se stessa che poi soltanto si muove in avanti indietro da tutte le parti ma restando sempre quel valore della presenza di conseguenza fino a quando tutti compreso il mondo scientifico come dice giustamente Luigi non si rende consapevole e cosciente del valore di questa presenza gli manca ancora la chiave ossia il bandolo della matassa per cominciare finalmente a capire ogni cosa fino ad allora dice i tuoi sforzi non saranno mai abbastanza hai ragione caro Luigi e sono sforzi che mi costano veramente e toccano me nell'amor proprio proprio quando io poi mi ritrovo di fronte a certi giudizi che non tengono conto che sia possibile costruire un altro quadro di riferimento pensano con la stessa miopia in cui lo riteneva quel grande filosofo Aristotele che ragionando con il sistema dall'alto verso il basso ossia dal generale al particolare aveva detto oramai noi conosciamo tutto in questo sistema che cerca di fare di scendere le verità da una verità fondamentale si è potuti andare più avanti rispetto a questo sistema quando lo si è abbandonato e mettendosi a cercare con l'esperienza attraverso l'esperienza sono state verificate quelle verità che erano state prima il frutto solo di una pura intuizione per esempio l'atomismo era stato intuito ma solo attraverso l'esperienza reale si è riusciti a dimostrare che quella intuizione non solo era ammissibile ma era traducibile in misurazioni vere e proprie che erano costanti secondo una cosa sbalorditiva a livello degli valori generali perché noi quando siamo sulla Terra e osserviamo nello spazio tutti gli altri pianeti come la Terra non ne troviamo uno che sia proprio uguale alla Terra abbiamo fatto grandi saltoni quando di recente lì a 1200 anni luce è stato trovato un possibile pianeta abbastanza vicino alla Terra perché ha un anno di pochi giorni in più e sembra avere proprio anche dei connotati abbastanza vicini ecco dei grandi saltoni ma non se ne trovano due di oggetti nello spazio che sono uguali come mai quando andiamo a vedere nelle componenti intime della natura e della materia noi invece troviamo tutte particelle uguali gli elettroni sono tutti uguali tra di loro anche se più o meno possono assomigliare a un pianeta che sia in orbita attorno al suo sole ma sono tutti uguali tra di loro non ce n'è uno di elettrone che sia diverso se non come materia e antimateria ossia il verso suo della progressione perché la massa dell'elettrone e del positrone è uguale solo che è diverso il segno uno ha carica positiva l'altro ha carica negativa uno avanza nel tempo l'altro retrocede nel tempo insomma come mai tutto ciò che è multiplo della nostra dimensione è dissimile e tutto quello che invece è sottomultiplo della nostra dimensione è sempre uguale ecco fino a quando non si capisce che noi andiamo a guardare in ciò che è la nostra componente facendo delle divisioni e lo sapete bene una divisione divide tutto in parti che poi sono uguali quando noi partiamo da uno e facciamo una moltiplicazione a seconda che la moltiplichiamo per uno due tre quattro cinque abbiamo quantità che sono diverse tra di loro se sono diverse le quantità con cui moltiplichiamo l'unità ecco la divisione porta a quantità che sono tutti uguali il nostro modo di capire ciò che è interno alla struttura è ottenuto per divisione un processo divisionistico dell'unità infatti per ottenere per esempio la particella elettrone che è una particella che riguarda una certa conformazione più piccola dell'unità noi andiamo a determinarla in questo modo qui prima determiniamo un volume in totale espansione lo abbiamo quando abbiamo un cubo che non presenta più solo il lato 1 di quanto è solo il tempo 1 in cui accadono simultaneamente tre lati orientati diversamente nello spazio ma prendiamo quei tre lati e li allineiamo tutti e tre sullo stesso lato allora abbiamo una unità che si espansa totalmente perché ha raggiunto la lunghezza tre della terna fatta da tre unità allora abbiamo che il piano in espansione del piano unitario è un piano che dal valore uno del lato ha assunto il valore tre della dimensione spaziale e a questo punto ci accorgiamo che tutta la superficie esterna del cubo è tre per tre uguale nove in ciascuna delle sei facce e nove per sei cinquantaquattro determina la superficie di tutte e sei le facce quindi un cubo andato a prendere con un numero in espansione si rivela cinquantaquattro come l'unità in espansione come il piano uno per uno che si sia espanso si è espanso in cinquantaquattro volte e il volume il volume reale ossia quello che avanza solo nel tre in positivo è tre al cubo ventisette ma c'è anche il tre di un avanzamento in negativo e avanza di un ventisette esso pure la somma dei due ventisette più ventisette è lo stesso cinquantaquattro per cui abbiamo un volume complesso contenuto che è cinquantaquattro ma anche la superficie è complessa in cinquantaquattro perché se osserviamo solo le tre facce rivolte verso la crescita sono ventisette e seppure dunque mentre la superficie generale riguarda tutte e sei le facce non solo quelle tre che esistono in verso positivo ma anche le tre che esistono in verso negativo così è anche il volume e tutto ciò che c'è in espansione unitaria indipendentemente dal fatto che sia superficie ossia volume è sempre unificata nel numero di cinquantaquattro unità ecco abbiamo determinato tutto l'incremento unitario che esiste nel volume che ha il lato con l'incremento totale unitario da uno è divenuto tre ebbene abbiamo avuto questo totale ma ora lo dobbiamo riferire questo totale a tutta la nostra realtà noi abbiamo ridotto non di diecimila ma di centomila ossia cinquantaquattro diviso per centomila uguale zero virgola zero 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 cinquantaquattro che sono cinquantaquattro centomillesimi cinquantaquattro centomillesimi quindi perché per centomila perché è una realtà elettrica o magnetica e una realtà elettrica o magnetica ha la dimensione cinque non la dimensione quattro della realtà vale centomila e non diecimila ecco perché cinquantaquattro diviso per centomila ossia tutte le quantità unitarie interne all'elettricità o al magnetismo conducono poi a una particella la cui massa è zero virgola zero 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 cinquantaquattro unità di massa atomica ecco come siamo arrivati a questo numero attraverso un puro calcolo relativo alla presenza la presenza è cinquantaquattro ma è costituita come presenza elettrica da centomila come presenza magnetica da centomila allora quando la presenza è presenza elettrica o presenza magnetica e dunque si presenta come massa di magnetismo ossia di materia ammassatasi per magnetismo eccola la quantità di zero virgola zero 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 cinquantaquattro unità di massa atomica siamo arrivati a quantità che sono sempre queste perché il calcolo che noi facciamo partendo da ciò che è presente come cinquantaquattro e riguarda una totalità quando riferiamo la totalità non alla totalità dell'elettromagnetismo ma a ciascuna delle quantità che formano questa totalità e quando la riferiamo a ciascuna il valore 54 assume il valore di 0,00054 unità di massa il valore è sempre quello perché il calcolo che si fa per divisione è sempre questo ora a questo finalmente si arriva attraverso un altro processo come sto cercando di farvi capire che è di tipo divisionistico che è proprio quello che ci porta per divisioni delle dimensioni unitarie ad addentrarci nel campo di ciò che virtualmente noi cosa facciamo? Lo operiamo in modo divisionistico e perché poi la vediamo questa particella ed è sempre tangente non si è mai assistito a una particella che sia caduta sul nucleo come mai se tutto quello che è in orbita attorno alla Terra presto o tardi cade sulla Terra perché non cade mai un elettrone sul nucleo come mai? e non sanno rispondere perché occorrerebbe l'esperienza per vedere ma questa esperienza che non ti è consentita ti dà una possibilità di risposta oppure no? La risposta è questa l'elettrone tangente è osservato attraverso la visione come massa di quel 54 che visto in senso inverso sono esattamente 45 gradi è la percezione ottava dell'angolo giro quella che prende un complesso fatto da otto cubi di lato uno e lo mette insieme in un solo cubo che ne contiene otto ecco quando noi dividiamo in otto parti l'angolo giro e ne risulta un angolo di 45 gradi e con la tangente di 45 gradi vediamo una particella che è sempre uno e sempre tangente come fa questa particella che è dedotta dalla tangente di 45 gradi a rinnegare il risultato cui la porta questa operazione come un perenne risultato non può crollare al suolo perché è una particella vista in un processo di accertamento divisionistico ecco l'amico grandi ha capito veramente il problema mi incita a continuare e io smetto però adesso perché mi sta venendo un po' di tosse e faccio fatica a parlare sperando confidando veramente che i tempi diverranno maturi ma io non ho proprio alcun dubbio che un giorno il mondo scientifico si dovrà piegare a quelle che sono le verità nuovamente organizzate costruite nel sistema aristotelico deduttivo attraverso la deduzione di tutto tutto dalla presenza 10 un 10 che è il ciclo della dimensione 3 dello spazio perché un ciclo è dato da tutti i movimenti interni al ciclo e nel ciclo 10 sono 10 le presenze ma quando noi le mettiamo in modo unitario noi dobbiamo togliere alle 10 che non si riferiscono ad alcun altro dobbiamo ridurci alle 9 che sono riferite a una delle 10 che è stata tolta dal numeratore e collocata al denominatore allora sembrano esistere come 9 perché 9 diviso 1 fa 9 e noi a questo punto crediamo che la misurazione di 9 unità sia ottenuta e ci dia la verità che sono 9 le parti in causa mentre invece le parti in causa sono 10 allora se non si capisce che quando noi facciamo una lettura di questo tipo qui abbiamo quel 9 invariante del sistema decimale e che per forza la C2 che riferisce in modo intero la massa con la velocità deve essere 9 essa pure proprio per le questioni basilari che abbiamo appoggiato le unità tutte quante al sistema decimale della matematica se la matematica ha il 9 invariante troveremo invariante anche il valore 9 e non è il valore di C2 la cosa sorprendente è che quando i francesi nel 1792 calcolarono il metro e poi da questo il decimetro cubo di acqua che divenne il chilo e poi agganciarono a questo il minuto secondo e costruirono questo sistema di riferimento all'interno del sistema metrico decimale fecero una cosa grandiosa di cui non hanno apprezzato a dovere il significato ma creando un 10 che è il riferimento assunto come puro principio ecco che tutto il resto che scaturisce da questo principio deve essere coerente al principio e le 9 a 1 quantità che sembrano essere 9 non sono totali se non sono 9 più 1 10 solo se abbiamo una energia uguale una massa che si moltiplica per un 9 in movimento della stessa massa noi abbiamo per la massa che è un decimo del suo ciclo 10 la presenza 1 e uno spostamento intero di 9 tanto che diventa 10 ma se i fisici calcolano che la massa in chili non è 9 espresso in massa ossia in chili che sono 1 allora cosa succede che 1 più 9 109 porta un ciclo che è 10 109 ma per carità significherebbe che con le osservazioni che esistono nella particolarità dell'uso di misure decimali noi andiamo a verificare che è sbagliato il fondamento ma è semplicemente assurdo ed è semplicemente una fisica scoperta da geni che però erano ancora inconsapevoli di una verità totale essa esisteva già tutto era già unificato sul fatto che tutte le unità fossero decimi del ciclo 10 ma è chiaro che quando la relatività generale è quella ristretta di Einstein mette la relazione che esiste tra la massa e l'energia attraverso la velocità in un modo tale che la massa è agganciata non a 9 ma a 8,987 eccetera di fronte a un sistema unitario che calcola le energie in un modo diverso da quello che fu istituito in principio il che è paradossale e grazie proprio all'intervento di tutti costoro Einstein in testa quella fisica che era unificata ha cessato di essere unificata invece è unificata quando tutte le energie in espansione si espandono linearmente di 9 e tutte le masse si contraggono linearmente di 9 perché dire che abbiamo una massa ammassata in un decimo significa che ha perso nove decimi di spazio ossia che ha avuto una aggiunta di un meno 9 dunque nell'ammassamento c'è un'aggiunta di spazio come meno 9 nell'espansione c'è un'aggiunta di spazio come più 9 e il valore in ammassamento e in espansione finalmente è unificato a questo si arriva ma solo attraverso la fisica amodea perché poi a seconda che espresse in spazio le masse siano ammassate e quindi esprimano una contrazione nello spazio ossia una perdita di spazio rispetto al ciclo intero della presenza noi abbiamo che quando andiamo a togliere una quantità da un valore in sé positivo riduciamo la positività di quel valore e come la luce da 300 milioni assume 299 milioni perché la sua unità elettromagnetica l'abbiamo tolta quando invece riguarda la massa della particella succede che quella particella della luce che è la stessa cosa dell'espansione elettrica ma solo espressa nel senso inverso uguale e opposto che la particella della luce che cosa subisce subisce invece apparentemente un aumento ma perché è perché passa da 9 a 9,109 perché c'è questo aumento perché si aggiunge a ciò che è materia ciò che è antimateria si aggiunge a ciò che è multiplo di 1 ciò che è uguale e contrario sotto multiplo di 1 ciò che è multiplo di 1 ha la forma di materia ciò che è sottomultiplo di 1 ha la forma di antimateria non si ha un calcolo più preciso della materia se aggiungiamo antimateria ma tutto questo manca ancora di comprensione perché è perché non si è ancora capito il significato di una presenza io ti ringrazio Luigi per avere messo a fuoco il problema proprio questo nodo proprio che c'è da sciogliere perché concordo in pieno con te questo è il nodo davanti al quale si blocca la fisica e fa fatica ad accettare il fondamento delle sue stesse verità grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.